Sono Emanuela Bonavolta, sono qui all'Assemblea Generale di Cittaslo in rappresentanza di Matambo in Mozambico. Matambo rappresenta un esempio di Cittaslo in itinere, un luogo dove praticamente non c'era nulla e dove stiamo svolgendo la progettazione proprio seguendo i parametri della qualità della vita e della dignità della persona che abbiamo in comune con Cittaslo International. L'Assemblea di quest'anno è stata veramente eccezionale, io mi sono trovata benissimo, è stata veramente un'esperienza unica e vi saluto e vi do appuntamento alla prossima Assemblea. Ciao!